Si chiama Gruppo Immagine, progetto del centro psichiatrico di Prato La Peligna che mira l'insegnamento e il mantenimento delle abilità di base, la cura di sé e dell'ambiente domestico. Così l'altro giorno gli ospiti del centro sono recati assieme allo staff ADB Center per apprendere le tecniche della cura del corpo e del benessere, aspetti non secondari per la crescita personale e collettiva, soprattutto per gli ospiti del centro. Un progetto che mette al centro la persona, il corpo che per tutti è un biglietto da visita e l'autostima personale di gruppo. L'attività di gruppo che prende il nome di Gruppo Immagine attraverso il quale avviene l'insegnamento e il mantenimento delle abilità di base, quali la cura di sé e dell'ambiente domestico, cose che in realtà sembrano di semplice natura e in realtà poi diventano complessi in contesti come il nostro. Volevo ringraziare in particolare tutta l'equip che permette insomma che queste abilità vengano strutturate e supportate quotidianamente quindi 24 ore su 24 e un ringraziamento va a Laura e allo staff appunto del DB Center che ci ha dato la possibilità oggi pomeriggio di regalare comunque un momento di coccole soprattutto soprattutto per le pazienti che abbiamo in struttura. In questa giornata vogliamo far conoscere a queste ragazze la cura del proprio corpo. L'igiene è alla base di tutto, dentro e fuori il centro estetico ma dato che ci troviamo appunto qui onorate di avere queste ragazze con noi possiamo iniziare a far provare il piacere delle manovre di una pulizia del viso. È molto importante la detersione e l'applicazione poi successiva di maschere, di fanghi, di creme idratanti, di riequilibrandi. Avere una pelle appunto idratata, pulita è un miglior compromesso per una donna e poi ci prendiamo anche cura delle mani di queste ragazze, ci prendiamo cura di un piccolo trucco e ringraziamo di nuovo la struttura riabilitativa.